Prosegue incessante l'azione investigativa degli inquirenti per individuare gli altri componenti della banda sfuggiti alla cattura che ha Taglierini alla mano rapinato la filiale della BCC di Lucrezia portando via un bottino di 30.000 euro una banda di pendolari del crimine giovanissimi che quasi certamente era venuta dal Foggiano appositamente per compiere il colpo e che nelle prime ore del pomeriggio doveva già far rientro, almeno questo secondo le loro intenzioni, nel loro territorio Nel carcere di Villa Fastigi rimane quindi per fermo di iniziativa giudiziaria in attesa di comparire davanti al giudice il 19enne di Cerignola uno dei due banditi che si sono introdotti nella banca e che è stato catturato dalla polizia poche ore dopo la rapina mentre tentava di raggiungere un altro mezzo per darsi alla fuga assieme agli altri complici Probabilmente l'udienza di convalida dovrebbe avvenire nella giornata di sabato giorno in cui potrebbero emergere altri elementi a riguardo di questa vicenda